Opan Gangnam Style Salve a tutti ragazzi sono in 696mcp e benvenuti in questo video aggiornamento sulla Cugini Serie un piccolo video aggiornamento dove vi dico che ci saranno due sorprese allora la prima è che ho cambiato lo spawn prima se vi ricordate c'era quella cosa sospesa in aria un po' più in là da sopra adesso c'è questa bella casetta sotto ci sono le regole e in più c'è un'altra sorpresa che vi farò vedere quando faremo l'undicesimo episodio il dodicesimo episodio il prossimo poi andando avanti allora la l'hardcore beh non trovo il tempo di caricarlo e quindi non so quando caricarlo la Cugini Serie è stata andata bene ho un hang of game da caricare ma è abbastanza grande e ci vuole un sacco di tempo a caricarlo e non riesco mai a finirlo di caricare e che altra serie e basta se non mi sbaglio ho finito qui ah in più iniziamo tra poco l'altra serie di Cogsigio One ma non so di preciso l'ho già detto in un altro video aggiornamento non so di preciso quando penso che non ci sia altro da dire quindi la Cugini Serie sta andando avanti l'hardcore devo trovare il tempo di caricarlo c'è un hang of game che ho fatto devo trovare il tempo di caricarlo e in più devo iniziare qualche altra nuova serie perché ne ho solo due e mezzo diciamo in attive ho solo la Cugini Serie e l'hardcore e mezzo mezzo l'hang of game che ogni tanto faccio comunque ragazzi per questo vi ragionamento è tutto non altro da aggiungere ah se andate a vedere il mio canale tra qualche giorno cambierà lo sfondo perché quello che stiamo è un po' vecchio diciamo ma dettagli da insieme è tutto ciao a tutti